La vita di campagna? Sì, sana, tranquilla, serena. Ma la città è un'altra cosa. Paura di non adattarti facilmente? Di restare solo? Ma io veramente... Ma no, ci sono gli amici anche in città. Ma sono anche in campagna qua. Gli amici? Non solo gli amici. Per la prima volta in televisione, Renato Pozzetto, Massimo Bolli. Il ragazzo di campagna, campione d'incasso della risata. Lunedì alle 20.30 su Canale 5. Grazie a tutti.